Hi everyone, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video oggi vi ho voluto filmare un altro tutorial un altro tutorial su questo look ne ho approfittato perché devo dire che sto usando questo look piuttosto spesso ultimamente allora siccome sto per uscire ne ho approfittato per filmarvi il tutorial è molto semplice da realizzare, non è niente di speciale è uno smokey turchese e marrone caldo riga di eyeliner, devo dire che questa combinazione di colori a me piace molto non so a voi mi saprete dire e poi questo rossetto che io sto amando letteralmente è il Lipstain il nome non riesco a pronunciarlo già non riesco a ricordarmelo ma non riesco a pronunciarlo correttamente per quanto mi impegni comunque poi vi metterò nell'info box tutta la lista dei prodotti che ho usato e lì sarei stati sicuri che sarà il nome corretto comunque Lipstain di Sephora che è questo qui e quello che ho applicato io è nella tonalità 17 tra l'altro è un colore che mi piace tantissimo secondo me si sposa bene anche con questo look e occhi che a volte ho abbinato anche a Honeymoon di NYX spero che il video vi piaccia fatemelo sapere nei commenti iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao